Sì, veramente al cardiopanno perché comunque è stata una partita sofferta. Il primo set sicuramente l'hanno spinto molto, poi siamo stati bravi noi a reagire nel secondo e nel terzo. Poi nel quarto l'hanno partito veramente forte con un turno di rimire in battuta più o meno quasi subito all'inizio. Lì ha spaccato poi la partita, però siamo stati molto bravi poi a riprenderci il set e andare punto a punto. Quasi potevamo portarlo a casa anche quello, poi il quinto nel 50-50. Lì si è fatto vedere veramente il vero carattere di questa squadra, di questa Italia, che non molla mai anche quando è in una situazione comunque difficile. Sapevamo che comunque l'Olanda è un avversario veramente ostico, con un grande allenatore, con dei grandi giocatori che comunque conoscono molto bene il campionato italiano e ci conoscono molto bene. Quindi bravi noi, ma bravi anche l'Olanda. È stato incredibile, comunque tutto pieno, tutto esaurito, ci ha dato sicuramente una grande spinta, una grande carica.